compacci compacci gobbi di merda compacci auguri per questa sera stelle stasera 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 è la serata del nonno stasera stelle auguri e mi raccomando attenzione con la salernitana in casa non fate cazzate non mi interessa neanche guarda vediamo vediamo se annulla vediamo diretta fuori gioco quindi abbiamo pareggiato con la salernitana che successe qua giuvento salernitana ti attivo con la nulla di niente sei finito giuventino sei finito sei finito sei finito sei finito sei finito forza salernita sei finito ormai il che il ciclo è finito il maestro te l'ha te ti andrà tutto contro già hai rubato il rigore col culo di bonucci l'ha ribattuto sei finito sei finito giuventino io devo stare che io non è vergognoso è vergognoso è vergognoso è vergognoso il col che ci hanno tolto è vergognoso e al primo disonesto di merda che mi viene a commentare questo lo banno e vi vanno tutti e vi vengo a cercare tutti a voi disonesti perché disonesti sotto questo video ci saranno e vi vanno tutti disonesti disonesti perché chi non ammette stasera che la juve ha subito un furto è un disonesto un disonesto un ladro un disonesto e un ladro un disonesto e un ladro questa è la morte del calcio italiano questa è la morte del calcio italiano e voi venite a parlare a me che la parra ha sistemato il calcio italiano dopo la vergogna vista ieri stasera abbiamo toccato proprio il fondo della merda stasera abbiamo toccato proprio il fondo della merda viva la svese e la macedonia centomila volte il mondiale la vi deve far baciare a stu cazzo Italia di merda oggi è morto il calcio italiano ieri abbiamo visto la vergogna che la parra abbiamo capito che deve aiutare ma stasera è morto tutto tu mi devi dire a me come cazzo fai a annullare quel gol che Bonucci non la tocca ma il regolamento è cambiato ma come cazzo il regolamento è cambiato solo per gli altri a noi si annullano i gol come funziona il regolamento è cambiato però noi lo annullano una vergogna l'abbiamo capito dovete far vincere là sopra quelli là di Milano va bene mi va bene tutto è meno male è meno male che noi siamo quelli che comandiamo il palazzo siamo la mafia del calcio siamo quello siamo quell'altro immagino un episodio del genere a parte inversa al 95esimo magari se la salernitana faceva il gol e tra due gli intoglievano questo gol qua apre dicendo comunque ragazzi a me non me ne frega niente ma mettetevi vergogna vado a mettere sulle scuole che la capa fila di fa mezzo a cambio vi dovete mettere vergogna vado a mettere vergogna questo sarebbe il modello juve la classe juve a rosto ma sapete che è ma stai a me ne voglio che ci fa pulire la stretta perché anche gli abitri non vi favoriscono più pure l'abitri non capito ma poi non fate niente ma lo favorimmo a fare solo un casino boom 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 e poi non vincite mai niente alla coppa che se la tenuta lo facciamo vengere gli scudetti adesso diciamo che ho rivisto un film targato pirlo andrea pirlo una squadra che a tratti fa acqua da tutte le parti dei giocatori singoli che veramente giocatori di esperienza che veramente mai visto una roba del genere mai vista che vergogna che schifo che vergogna ecco allegri guarda guarda allegri guarda guarda allegri guarda questo è allegri guarda faccia di merda guarda questo è allegri guarda oh 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 un primo tempo è giocato di merda rivedendo le statistiche ti le occasioni stasera io non posso rimproverare nulla la mia squadra appunto posso rimproverare di stare sotto 2 a 0 vabbè ma quello fa parte del calcio scusa voleva del calcio champagne ok coppi di merda coppi di merda coppo di merda ti è andata bene coppo di me rigori rigorini bono rigorini scuola di calcio cosa ti avevo detto io stai attento pezzo di me è uscita la merda lo sai anche tu è bianco nera la merda lo sai anche tu è bianco nera la merda lo sai anche tu è pure nero blu annullato datemi sta gioia dai datemela sta gioia vediamo se annullato annullato se 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 e questo video ovviamente va tipo usiamo per voi che piacere che piacere non posso vi prenderei la la cremina ma ve lo faccio in un altro momento ok ciao ciao ciao